Come ogni anno, la Curva Sud ricorderà le vittime del terremoto del 23 novembre 1980. A 43 anni dalla tragedia che sconvolse l'Irpinia, gli ultra bianco verdi hanno invitato la popolazione avelinese a unirsi nel ricordo di chi ha perso la vita in quel maleditto sisma. Appuntamento alle ore 19 nel piazzale antistante il Duomo. Nella dolore e nostro orgoglio, 23 novembre è data che toccano Irpini nel profondo dell'animo. Irpini, terremotati e fieri, si legge in una nota della Curva Sud. Molti dei ragazzi che questa sera si ritroveranno davanti al Duomo non erano ancora nati nel 1980, ma tutti si sentono figli del terremoto e di un immenso dolore che non riesce ad affiavogliersi. Noi siamo terremotati! Noi siamo terremotati!